Il consigliere di opposizione del comune di Polla, fortunato da Rista, dopo Sanza, Ottati e Roscigno, chiede l'apertura di un tavolo tecnico e un consiglio comunale straordinario per discutere sulla situazione Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, Alburni. Valutare l'opzione di uscire dal parco è un'azione da compiere per il rispetto di tutti i coloro che hanno avuto solo svantaggi da questa situazione e a Polla sono in tanti, dichiara il consigliere che auspica nella volontà dell'intero consiglio comunale di voler porre fine a questo sodalizio. A Polla diversi imprenditori boschivi hanno denunciato una serie di difficoltà perché si sono ritrovati i propri terreni sottoposti a vincoli e quindi non hanno potuto effettuare il taglio senza essere avvertiti. I vincoli del parco hanno costretto tantissimi imprenditori agricoli ad abbandonare i terreni per una serie di difficoltà nel portare a compimento la loro impresa. Ottanta sono i comuni rientranti nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, Alburni. Ai tre citati paesi avversi a lente potrebbero seguirne altri.